Buongiorno a tutti, mi chiamo Piccarda Baccianti e sono un'allieva del primo anno di Medicina alla Scuola Superiore Sant'Anna. Se vi va di ricevere dei consigli per preparare al meglio i concorsi di ammissione di quest'anno, il professor Fabio Orecchia vi aspetta mercoledì 18 alle ore 17 sul link in descrizione.